Nell'ambito dei controlli per verificargli il corretto utilizzo di fondi pubblici, i finanziari della tenenza di Bosa Marina e del Comando Provinciale di Nuoro hanno eseguito una serie di verifiche che hanno portato alla scoperta di un'azienda che ha indebitamente percepito quali incentivi alle imprese 20.000 euro. Le indagini delle fiamme gialle di Bosa Marina hanno permesso di rivelare il meccanismo fraudolento adottato da un imprenditore galurese per ottenere un contributo a fondo perduto da parte di un comune della Planargia per incentivare il trasferimento di imprese dai centri abitati con oltre 5.000 abitanti ai piccoli paesi che ne fossero sprovvisti. L'imprenditore, successivamente al trasferimento a cartolare della sede d'esercizio e all'ottenimento del beneficio economico, non ha rispettato l'obbligo di mantenimento della sede fissato in un minimo di 5 anni, facendo perdere le proprie tracce senza aver mai avviato effettivamente l'attività nel piccolo comune. Gli accertamenti dei finanzieri svolti attraverso l'esame della documentazione trovata nel corso dei controlli, unitamente ai riscontri effettuati sul territorio, hanno consentito di accertare la natura simulatoria degli atti stipulati con l'ente comunale e con i privati a cui aveva richiesto l'affitto dei locali dove basare la propria azienda. L'imprenditore è stato deferito alla procura regionale della Corte dei Conti di Cagliari per ottenere provvedimenti finalizzati e contestare il conseguente danno erariale.